Questa sera è la notte delle notti per la Ternana di Breda. Tra qualche minuto scenderà in campo a Liberati per affrontare il Bari. Si misurano due squadre che sono arrivate nella zona calda, precipitate nella zona calda della classifica in maniera abbastanza sorprendente, almeno per quello che si poteva intuire all'inizio del torneo. Per cui veramente sarà una battaglia senza esclusione di colpi. Si misurano due città importanti. Bari ha 316.000 abitanti. E' il comune della zona adriatica più popoloso d'Europa, tre volte più grande della città di Terni come numero di abitanti. Quindi sono due città che hanno veramente una storia alle spalle, anche nel calcio. Quindi sarà, ripeto, senza esclusione di colpi. Al primo sangue, non al primo sangue, all'ultimo sangue, come si diceva una volta nei duelli che finivano con l'uccisione di uno dei due contendenti. Breda sembra abbastanza sicuro del fatto suo, e invita i suoi giocatori a esprimersi nello stesso modo, con la stessa aggressività che hanno avuto al San Nicola. Giampaolo, l'allenatore avversario, ha, devo dire, un pizzico di paura. Mi sembra curioso il fatto che abbia chiamato tra i convocati altri tre, sia pure giovani, attaccanti. Praticamente tra centravanti ed esterni sono dieci nella rosa di convocazione dei giocatori, dei galletti. Gli attaccanti, come se ci fosse una estrema, e in parte è vero questo, un'estrema necessità di fare gol per sopprimere le speranze della Ternana. Gara, quindi, di fronte a 13.000 spettatori, che sono più di un terzo di quelli che si sono visti, erano 33.000 al San Nicola, quindi facendo i rapporti tra gli abitanti di Terni e di Bari, la risposta in percentuale è più alta quella di Terni che non quella barese. Però, ripeto, sarà una partita di grande spessore e si spera anche bella. Per quanto riguarda il Perugia, c'è stato lo sciogliete e le righe, se ne andranno via tutti i giocatori in prestito, ovviamente, ritorneranno alle proprie società. L'ultima notizia riguarda Iannoni, Edoardo Iannoni, che per il centro di coordinamento e di tifosi che si riconoscono in questo centro e hanno votato il migliore giocatore della stagione, è stato eletto Edoardo Iannoni. Per qualche altro giorno, fino alla fine del mese, i contrattualizzati, che sono rimasti in pochi, si potranno allenare a Perugia e poi si potrà vedere se il 4 di giugno tutte le cose andranno al loro posto con l'iscrizione al campionato. Per altri discorsi bisognerà attendere. Infine, un commento su Formisano, l'allenatore Alessandro Vittorio Formisano, sembra entrato nel mirino dei tifosi, anzi, non sembra, è entrato nel mirino dei tifosi probabilmente perché viene ritenuto poco simpatico, antipatico. è un difetto che colpisce soprattutto quelli che si danno un po' di arie o che sono colti o che vogliono apparire tali. Ecco, io ricordo solo a me stesso che Eraclito, filosofo dell'antica Grecia, diceva che la molta scienza non insegna ad avere intelletto e anche nel calcio bisogna dimostrare di avere intelletto.